Il podcast di Libro Quotidiano Ma cosa pensi di Alice Line? Guarda, ovviamente lei è culturalmente lontana da me, esattamente come mio marito, forse anche un po' di più, però mi ha sempre incuriosito. Allora, io tifo donne, tifo per la Meloni, tifo per la Schlein, perché penso che avere oggi due donne al vertice della politica italiana è una grande rivoluzione. Cioè, ognuno di noi sogna ciò che vede. Ciao maschio. Ciao maschio, ho fatto un'anticipazione. Ciao maschio. Era una minaccia in realtà, ciao maschio. No, quindi io sono molto contenta, incuriosita, penso che il quadro politico chiaro faccia bene a tutti, anche a Giorgia, perché da una parte c'è lei, dall'altra parte c'è Schlein, destra, sinistra, e tutto è molto più regolare. Le mezze misure o il caos non fa bene né alla maggioranza né all'opposizione, perché comunque è una ragazza che si è fatta da sola, che ha dimostrato sul suo territorio esattamente come la Meloni, no? Ha un percorso diverso, ma comunque un percorso personale. Ecco, non è una miracolata. E questo mi piace, cioè lei si è messa contro tutti e ha vinto le primarie. Chapeau. Terraverso, Terraverso, non so neanche che cosa voglia dire, ma si chiama Terraverso.